Ciao a tutti, siamo qui di nuovo una ulteriore volta, non so quante altre ulteriori volte ci saranno, perché purtroppo viviamo in un regime in cui l'inazione e l'incompedenza la fa da padrona. E quindi il discorso della nostra denuncia nel senso ampio del termine, il nostro rievocare l'attenzione sulle tematiche più difficili della vita quotidiana della persona che si trova a combattere contro lo Stato e non aiutato dallo Stato, sarà sempre più una lotta improba, ma noi ce la mettiamo tutta fino in fondo, fino a che ci assisterà ovviamente la salute e il Gran Dio Priaco. Allora ecco, siamo qui oggi per dire che, vista l'inazione degli organi competenti, noi continuiamo a stimolare e a punzecchiare la loro attenzione. Ecco qui, abbiamo presentato poco fa l'ulteriore denuncia, controlla la data in modo che gli amici si rendano conto che effettivamente abbiamo fatta oggi. Mentre la massa morfa si distende nell'estate del Solleone, noi facciamo la denuncia nell'interesse del popolo italiano. Allora, tralascio tutta la parte iniziale che già in altre occasioni abbiamo affrontato, ma l'abbiamo riesaminata sotto il profilo che adesso dico. Abbiamo previamente messo in atto quattro livelli di ragionamento per disquisire sulla illecità e illegittimità della tassazione in senso ampio e in particolare della tassazione per quanto riguarda l'Imu. Allora, questa è una cosa importantissima, invitiamo i nostri amici a seguire bene questi concetti, perché dobbiamo veramente ringraziare il qui presente Orazio, il quale mentre dorme la notte gli arriva chissà chi, perché mi ricorda Costantino, che mentre dormiva gli è arrivato un simbolo dal cielo. Inoxinium, 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 scusa ancora, è vero. E lui invece gli arriva un messaggio, probabilmente da San Mercutio, che gli arriva e gli dice queste cose. Lui si sveglia la mattina, dice che ho avuto un'apparizione. Tu scherzi, fai così. Non so, il cervello lavora la notte. La notte? Io la mattina mi sveglio con le idee. E allora ha avuto questa apparizione e lui fa queste cose. Guardate che questo concettualmente è importantissimo. Leggene i punti essenziali. Allora, i livelli sono quattro. Il primo livello è insussistenza dei fatti attribuiti ai cittadini e scambio di persona. Perché? Perché praticamente alla fine di tutti i giochi, come abbiamo dimostrato in tante occasioni, il vero surplus di guadagno e di utile in tutto lo scenario economico nazionale ce l'hanno solo ed esclusivamente le banche. Perché tutti i cittadini pagano le tasse, tutti i cittadini si trovano indebitati con il debito pubblico che va, iperbolico che va alle stelle, eccetera, eccetera. Non entriamo nel dettaglio. Per cui praticamente che cosa succede? Succede che le banche alla fine, nonostante truffino tutti dalla mattina alla sera, addirittura poi chiedono anche l'aiuto dello Stato, per cui lo Stato gli regala altri 40 miliardi dei soldi nostri, che poi ci fa mettere a debito e ci fa pagare attraverso le varie cartelle esattoriali, attraverso le varie imposizioni di ogni genere e soprattutto ci fa pagare con delle tasse così inique, tipo ad esempio l'Imu. E quindi il primo livello è l'insussistenza dei fatti attribuiti ai cittadini, cioè come essere portati in processo per un fatto che non ci riguarda. Ed è già la prima motivazione. Per dirla in termini più chiari, tu mi fai pagare delle tasse che io sulla base delle norme vigenti, e sulla base soprattutto delle normative europee non sono tenuto a pagare. Perché? E lui lo spiega. Punto 2, secondo livello di ragionamento. Quindi, quando qualcuno ti porta in un procedimento da parte dello Stato, questo qualcuno deve essere uno che ha le potenzialità giuridiche e civiche per potertici portare. Quindi deve essere un soggetto abilitato a dare in giudizio per conto dello Stato contro il ricorso eventualmente dei cittadini. Questo non è vero. Quindi c'è una incapacità di apertura di procedimento da parte di chi apre il processo e la capacità di stare in giudizio. E quindi anche questo è un reato, è un'usurpazione, oltre a tutte le altre che ci hanno fatto. Quindi questo è il secondo livello. Terzo livello. Tutti i cittadini, come bene sanno tutti quelli che si sono letti almeno qualche volta la Costituzione, all'articolo 1 sono i detentori della sovranità. Allora, se uno è detentore della sovranità, è quello che ha il potere potestativo. In ultima analisi è quello che decide. Non i tre poteri, o come dico io, i quattro poteri, perché quello più importante è il potere monetario. Tutti gli altri tre vengono sempre citati, quello monetario mai. Perché così si vuole dove si vuote, come diceva Dante. Così si vuole dove si vuole. Oppure si vuote dove si vuole. È uguale, è diciamo bionivoca, è reversibile. E quindi il terzo livello è un diritto costituzionalmente garantito al primo articolo della Costituzione che permette la resistenza alla lesione dei diritti costituzionali violati. E quindi questo è un diritto garantito da ogni cittadino come individuo o come collettività. E quindi questo va esercitato, questo diritto. E poi vediamo qui, andiamo poi nel dettaglio, perché questa è una cosa che ho... No, dettaglio, a parte il dettaglio... Dopo, dopo, vediamo dopo. Il tempo è breve e deve essere breve. Però noi siamo disposti a ulteriori spiegazioni per chiunque se le chieda. Perché queste sono cose importantissime. Voi pensate che oggi, sulla base delle leggi vigenti, qualsiasi cittadino può non pagare alcuna tassa. Allora, parliamo del quarto livello. Appunto, sulla base della potestatività, della sovranità del cittadino, uno dei diritti garantiti a livello internazionale è che fra i primi, non i primi perché ci sono state anche altre sopravvenienze nel corso dei millenni che hanno permesso questo, ma diciamo uno dei più noti in epoca recente è quello che avvenne fra gli Stati Uniti, Cuba e la Spagna. Quando nel 1798... 1898... 1898... Scusa, scusa... 1898 gli Stati Uniti fecero ricorso a questa clausola internazionale che poi da lì ha preso piede e poi fu formalizzata da SAC, che è scritto SAC ma si dice SAC, anche qui, anche qui, e questo nome si è ripetuto varie volte nella storia. E che cosa dice? Questa, diciamo, normativa internazionale è un appello al disconoscimento del debito odioso, del debito detestabile. E che cosa dice? Allora, questo SAC, o SAC che vogliamo, che era ministro dello zar Nicola II, e poi dopo la rivoluzione russa si è trasferito a Parigi, appunto, non era venuta la rivoluzione francese, e ha scritto, oltre ad essere, diciamo, docente nelle varie università sia in Francia che altrove, scrisse un libro nel 1927 in cui formulò e, diciamo, sostenne appunto questa tesi. E che cosa dice? Praticamente sono tre cardini di questo, diciamo, appello al disconoscimento del debito odioso. E cioè, il governo di un paese ha conseguito un prestito senza il consenso dei cittadini o senza che ne fossero consapevoli. E questo è il caso dell'Italia. Cioè, come appunto in occasione di introduzione forzosa del corso dell'euro, senza preventiva consultazione popolare, visto che si trattava di sottrarre ai cittadini un diritto costituzionalmente garantito come quello primario della sovranità monetaria. E quindi questo è il primo cardine. Attenzione, fermi un momento. Allora, questo punto è importantissimo. Ma perché è importante? Perché dimostra la malafede dei governanti italiani dell'epoca. Tenete presente che tutti i paesi aderenti all'Unione Europea E' stata indetta. Fu indetto il referendum e in quasi tutti i paesi E' stato negato. Fu indetto il referendum ebbe risultato favorevole al popolo e non favorevole alla casta dirigente. Guarda, allora, si fa per esempio riferimento alla Danimarca e riferimento alla Francia. La Francia che sono i nostri cugini più vicini. Ma perché in Irlanda, no? Anche in Irlanda. Certo, ma la Francia è quella più a noi vicina in senso logico, in senso morale, in senso ideologico, eccetera. E quindi, nonostante che i francesi siano definiti un popolo libero, un popolo rivoluzionario, eccetera, però con questo regime internazionale che si è imposto negli ultimi decenni e che ci ha condotto a questa situazione generale della condizione economica disagiata in cui ci troviamo chiaramente è indice del grado di illibertà che abbiamo raggiunto quando in Francia succede una cosa del genere che il popolo dice no, non vogliamo entrare nell'euro e quelli se ne strafottono e continuano come se niente fosse successo. Andiamo avanti. Il punto 2. I prestiti sono stati utilizzati per attività di cui la cittadinanza non ha beneficiato. E allora, non solo, ma addirittura questo debito di espansione esponenziale sta costringendo alla fame milioni di cittadini italiani che fino alla data fatidica del gennaio 2002, cioè quando siamo entrati nell'euro, appartenevano in buona parte alla piccola e media borghesia. Quindi c'è stato un arretramento economico del benessere. La media borghesia attiva, non burocratica, attenzione. Il terzo punto, che è poi quello che a noi ci interessa di più, e cioè i creditori sono al corrente dei primi due punti e se ne disinteressano. Qui c'è ancora di più. Non solo sono perfettamente al corrente e se ne disinteressano, ma al contrario, in aggiunta anzi, lo sanno perfettamente e addirittura sono perfettamente sodali e collusi in questa immane rapina, nascendemente e intenzionalmente è messo in atto da decenni per distruggere la nazione e lo Stato italiano. Questa clausola di questo debito ignobile fu utilizzata dall'assassino Bush, il quale quando conquistò per ragioni petrolifere l'Iraq e fece assassinare Saddam Hussein, assolutamente, dopo c'erano tutti i creditori di Saddam Hussein, i quali in tutto il mondo chiedevano i soldi. Per cui all'epoca, perché il maggior creditore dell'Iraq era l'Italia, l'Italia che forniva le armi, la formelara, eccetera. Allora, che cosa ha detto Bush, il quale all'epoca, avendo abbattuto il governo di Saddam Hussein, il governo americano era un governo di occupazione e aveva preso il posto, quando questi andarono a chiedere i soldi al governo americano, Bush dice no, io non lo pago perché il debito che aveva fatto Saddam Hussein... Non era suo, cioè non era del popolo iracheno, ma era solo a suo vantaggio. Del suo vantaggio, quindi ti immagini, era un debito ignobile, come se gli americani non avessero dei debiti ignobili nei confronti dell'intera razza umana. Assolutamente. Quindi questo per dire, insomma, che c'è... Cioè di appigli, se noi vogliamo, noi ne vogliamo fare, ne abbiamo quanti ne vogliamo. E abbiamo sempre ragione. Cari signori, concludo, qui stiamo di fronte ad una platerale rapina condotta contro lo Stato e di cittadini, che invece collusi tutte le più alte istituzioni e cariche dello Stato, coloro che vi sono stati posti proprio per fungere da ultimo baluardo a qualunque attacco interno o esterno. Ed invece sono stati i primi a vendersi alle blandizie, alle lusinghe, agli adescamenti della grande finanza internazionale. Perfetto, e con questo concludiamo. Oh, cari amici, voi vedete che io ho una mascheratura qua, che qualcuno credeva che... No, ma adesso faremo le denunce anche qua, eh? Che qualcuno... Qua pagheranno. Pensava che io fossi Hannibal. Beh, o qualcun altro ha pensato che qualcuno da noi denunciati mi avesse venato. In realtà è successo di peggio perché ho inciampato in una porcata fatta dal Comune di Roma e spero di poter chiedere l'attuale e giusto risarcimento all'ex medico marino, oggi sindaco di Roma. Poverino, poverino, io mi immagino i suoi curati. Sì. No, pu. Vento che faccio il sindaco. Ciao a tutti.